ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco bezalip aurbindo farma italia srl ultimo aggiornamento 31 ottobre 2021 cosa a bezalip confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere bezalip e durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa a bezalip bezalip a un farmaco a base del principio attivo bezafibrato appartenente alla categoria degli ipoli pemizzanti e nello specifico fibrati e commercializzato in italia dall'azienda eurobindo farma italia srl bezalip può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni bezalip 400 mg 30 compresse a rilascio prolungato informazioni commerciali sulla prescrizione titolare aurbindo farma italia srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo bezafibrato gruppo terapeutico ipoli pemizzanti forma farmaceutica compressa rilascio modificato indicazioni bezalip ha indicato in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici ad esempio esercizio fisico riduzione ponderale per trattamento dell'iper trigliceridmia grave con o senza bassi livelli di colesterolo hdl iperlipidemia mista quando una statina a controindicata o non tollerata posologia posologia 1 compressa al giorno da assumere al mattino o alla sera al momento del pasto il trattamento con bezafibrato a normalmente una terapia a lungo termine pazienti con sensibilità gastrica il bezafibrato deve essere somministrato con cautela in pazienti con sensibilità gastrica vedere 44 pazienti con ridotta funzionalità renale la clearance della creatinina bezalip 400 mg non dovrebbe essere utilizzata al parametro più attendibile specialmente nel paziente anziano nei pazienti dializzati l'uso di bezafibrato a controindicato vedere paragrafo 4 3 pazienti anziani la funzionalità renale viene fisiologicamente ridotta dall'età il trattamento con bezafibrato dovrebbe quindi essere valutato sulla base dei valori della creatinina sierica e della clarance della creatinina bezalip 400 mg non dovrebbe essere utilizzato negli anziani poichà copyright la clarance della creatinina dopo i 70 anni di età a normalmente pia bassa di 60 ml baranin popolazione pediatrica l'uso del bezafibrato nei bambini deve essere considerato con particolare cautela dato che l'esperienza clinica limitata non ha possibile fornire un'indicazione posologica precisa per i bambini modo di somministrazione la compressa di bezalip deve essere ingerita intera con una sufficiente quantità di liquido controindicazioni il bezafibrato non deve essere somministrato in caso di ipersensibilità al principio attivo bezafibrato o ad altri fibrati ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 affezioni epatiche con l'eccezione della steatosi epatica che ha frequentemente associata all'ipertrigliceridemia patologie a carico della colecisti con o senza con l'elitiasi poichà copyright un possibile coinvolgimento del fegato non può essere escluso concomitante trattamento con inibitori della hmg coa riduttasi statine in pazienti con fattori predisponenti ad una miopatia ridotta funzionalità renale gravi infezioni trauni interventi chirurgici o alterazioni del bilancio ormonale o elettrolitico vedere paragrafo 45 accertate reazioni foto allergiche o fototossica e fibrati gravidanza ed allattamento vedere paragrafo 46 avvertenze speciali e precauzione di impiego l'osservanza della dieta e delle altre misure che migliorano i disturbi del metabolismo lipidico come l'attività fisica la perdita di peso e un adeguato trattamento degli altri disturbi metabolici per vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione quando il verde fibrato viene utilizzato contemporaneamente ad altri farmaci o sostanze si deve tenere conto delle seguenti interazioni il verde fibrato può incrementare l'attività degli anticoagulanti di tipo cumarinico di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere bezalippe durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere bezalippe durante la gravidanza e l'allattamento ci sono dati limitati sull'utilizzo del bezafibrato nelle donne in gravidanza studi condotti su animali non indicano effetti dannosi di tipo diretto o indiretto riguardo alla tossicità riproduttiva come misura vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari dal momento che il farmaco può occasionalmente provocare vertigini e sonnolenza fatica o debolezza muscolare i pazienti devono essere informati che il bezafibrato può ridurre le capacità di reazione a tal punto che le capacità di guidare e usare macchinari sono compromesse vedere paragrafo 4 8 effetti indesiderati il profilo di sicurezza complessivo del bezafibrato si basa sui dati clinici e sull'esperienza successiva alla commercializzazione nei 48 studi clinici sono stati arruolati complessivamente 3581 pazienti gli effetti collaterali vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio fatta eccezione per la rabdomiolisi non si conosce un quadro clinico specifico dell'intossicazione da bezafibrato in caso di sovradosaggio a dunque necessario somministrare un'adeguata terapia sintomatica non esiste un antidoto specifico nei casi di rabdomiolisi prevalentemente in pazienti con compromissione della funzionalità renale interrompere immediatamente la somministrazione del bezafibrato e monitorare attentamente la funzionalità renale proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica sostanza ipolipemizzante codice atc c10 ab02 il bezafibrato riduce lipidi ematici elevati trigliceridi e colesterolo il trattamento con il bezafibrato riduce le vl dl e le l dl elevate mentre proprietà farmacocinetiche assorbimento dopo somministrazione di bezafibrato 400 mg retard un picco di concentrazione di circa 6 mg bar l viene raggiunto dopo 3 4 ore la biodisponibilità relativa del bezafibrato retard rispetto alla formulazione dati preclinici di sicurezza i risultati degli studi preclinici di farmacologia tossicità a dosi ripetute geno tossicità potenziale cancerogeno e tossicità riproduttiva non hanno evidenziato rilevanze sull'uso terapeutico nell'uomo elenco degli eccipienti lattosio monoidrato povidone k25 sodio laurilsulfato i promellosa cento impasse silice colloidale anidra magnesio sterato poli etilacrilato metilmetacrilato i promellosa trempas macro gol 10.000 talco titanio di ossido polisorbato 80 sodio citrato fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato